Un ricercatore dell'ospedale Bambino Gesù di Roma che si occupa proprio di questo tipo di ricerca, Luca Borro. Benvenuto, qualche tuo. Grazie Emiliano, grazie mille, buonasera a tutti e grazie per la vostra attenzione. Io arrivo dall'ospedale Bambino Gesù di Roma dove svolgo attività di ricerca nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 3D in medicina e oggi vi parlo di quello che stiamo sviluppando, stiamo cercando di portare avanti e su quale crediamo molto, cioè il bioprinting, l'innovazione tridimensionale per la biologia e per la medicina. Partiamo un po' dalle basi, diciamo che cos'è il bioprinting, è una tecnologia 3D funzionale che permette la stampa attraverso del materiale biologico o attraverso biopolimeri. In realtà la dicitura 3D potrebbe anche evolversi in 4D in quanto è proprio questo il passaggio che secondo me c'è tra l'attuale tecnologia di stampa 3D che tutti conosciamo, quindi in materiali plastici o termoplastici, in qualcosa che evolve nel tempo. Poiché qui parliamo di bioprinting, quindi di strutture cellulari, queste strutture hanno una rilevanza biologica che si evolve appunto nel tempo. Quindi il concetto principale di questa tecnologia è che si sta passando lentamente dalla tecnologia tridimensionale alla tecnologia quadridimensionale, comunque 4D. Importantissimo il concetto di funzione per i bioprinting, il materiale che noi stampiamo con queste stampanti 3D biologiche deve avere una funzione, quindi deve mimare una funzione biologica, una funzione fisiologica. Quindi se stampiamo ad esempio cellule del fegato, quindi epatociti, dovranno avere una funzione epatica e così via. Siamo sempre stati abituati a pensare alla stampa 3D come qualcosa che avvenisse attraverso appunto del materiale plastico, quindi termoplastico. Quello che si sta invece verificando nel settore biomedicale è proprio questa traslazione dal materiale plastico al materiale cellulare. Cioè stiamo arrivando al punto in cui il materiale diventano le cellule, le nostre cellule, quindi le cellule dei pazienti possono entrare all'interno di una stampante 3D, essere estruse attraverso un estrusore e andare a formare la parte biologica o la parte anatomica di interesse. In realtà non solo il materiale cellulare si può stampare con questa tecnologia, ma anche direttamente dei biopolimeri, dove per i biopolimeri intendiamo dei polimeri che hanno la possibilità di essere biocompatibili, quindi di non interferire negativamente con le funzioni biologiche del nostro organismo, ma anche di essere biodegradabili. Quindi la funzione della biodegradabilità è molto importante. Perché si sente parlare molto di bioprinting e perché è importante nel settore medicale e quindi nel settore sia della biologia che della medicina, che poi sono evidentemente intercorrelati. Innanzitutto perché possiamo ricostruire delle parti anatomiche con del materiale cellulare autologo, quindi potenzialmente noi potremmo avere le cellule del paziente, inserirle all'interno di queste stampanti e produrre delle parti anatomiche da sostituire. Possiamo quindi rispondere a delle esigenze specifiche del paziente, cioè se il paziente ha una patologia e magari per questa patologia il paziente è in lista per un trapianto, in un futuro questa tecnologia è potenzialmente in grado di dare un contributo notevole all'abbattimento delle liste trapianti, in quanto riuscirà probabilmente fra qualche anno a produrre delle parti anatomiche biologicamente funzionanti. E poi ci aiuta anche dal punto di vista della ricerca. Questa tecnologia ci permette di capire meglio le dinamiche cellulari, soprattutto nelle patologie di pertinenza oncologica. Ovviamente avere delle cellule stampate in 3D permette di conoscere meglio il funzionamento di quelle cellule rispetto a delle normali culture cellulari che si fanno in laboratorio attualmente, bidimensionalmente. Questa slide cerca di riassumere quali sono i vantaggi del bioprinting. A sinistra vedete una cultura cellulare convenzionale, chiamiamola, dove le cellule vengono praticamente piastrate, quindi vengono deposte su un supporto e queste cellule si sviluppano bidimensionalmente in maniera planare, cioè vanno a svilupparsi sul piano, quindi aderiscono al piano sul quale sono poggiate e si sviluppano planarmente. L'evoluzione con il bioprinting invece è proprio quella che vedete a destra, c'è una sorta di organoide, uno sferoide o comunque una qualsiasi struttura dridimensionale che può essere formata attraverso l'impiego di materiale cellulare. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che a differenza delle cellule 2D, quindi della possibilità di produrre dei costrutti biologici di questo tipo, con questa tecnologia possiamo mimare la nostra fisiologia, quindi abbiamo qualcosa che è più aderente al modello reale che può essere quello animale o quello umano. Ovviamente in quella condizione lì le cellule che stampiamo stanno meglio, quindi hanno un'omeostasi cellulare aumentata, quindi rispondono meglio ai processi biologici. E poi c'è anche da dire che in questo modo noi indirizziamo le cellule a prendere una determinata forma, quindi se noi volessimo in un futuro ad esempio creare una parte anatomica spiccatamente tridimensionale come potrebbe essere l'interno del nostro osso che è composto da milioni di piccole asticine chiamate trabecole osse, noi potremmo indirizzare le cellule a prendere quella forma e quindi aiutiamo le cellule a svilupparsi morfologicamente verso quella direzione. Questi sono i principali vantaggi dell'utilizzo del bioprinting. Ma che cos'è una bioprinter, quindi una stampante 3D? È una macchina molto semplice, in realtà, vedete è composta da due grandi siringhe, grandi diciamo, non esageriamo, due siringhe che hanno degli aghi molto piccoli invece, dalle quali possiamo far uscire diversi materiali, quindi diverse tipologie di materiali. Nel nostro caso la siringa in metallo è per i termopolimeri, quindi polimeri che necessitano di essere scaldati, anzi biotermopolimeri, invece quella a destra è per materiali viscosi. All'interno della siringa che avete visto a destra potevamo mettere cellule oppure matrici extracellulari. Tutto questo viene praticamente a depositarsi su una piccola piastrina di vetro che si trova appoggiata al piano di stampa. Questa è una bioprinter tipo, poi ce ne sono tanti tipi, ovviamente si possono utilizzare diverse tipologie di materiali anche contemporaneamente. E questa è la nostra stampante 3D, nel nostro laboratorio ho fatto questo video giusto per mostrare in che modo la macchina depone il materiale sul piatto di stampa. Stiamo stampando un biopolimero sul quale noi crediamo molto, è il Policapro Lattone. Questo biopolimero di cui vi parlerò fra poco ha delle proprietà molto interessanti per essere utilizzato in queste applicazioni. Vedete la stampa è molto fluida, non è particolarmente complessa, né tantomeno complessa, è la tecnologia che c'è dietro. Ma ad oggi cosa si sta facendo realmente in termini di bioprinting, cioè dove si è arrivati a questo punto? Ovviamente nella letteratura scientifica ci sono tantissime evidenze dell'importanza di questa tecnologia, però ho preso questo articolo dell'Università della California, uscito qualche mese fa, in cui alcuni ricercatori hanno stampato in 3D quello che vedete essere il midollo spinale di un piccolo topolino. Questo midollo spinale è stato ovviamente coltivato con cellule neuronali ed è stato realizzato con alcuni biopolimeri che vedete rappresentati in basso a destra, quindi il glicole poliatilenico e gelatin metacrilato. Cosa si è visto? Si è visto che prendendo questo piccolo scaffold prodotto con una bioprinter, quindi con una stampante 3D biologica, e impiantandolo nel topo, il quale topo aveva precedentemente avuto una lesione midollare, si è visto che il topo ha riacquistato la sua funzionalità motoria. Quindi dopo 14 giorni la funzionalità motoria che era precedentemente mancante, si è ripristinata almeno parzialmente grazie all'utilizzo di questo scaffold. Nei fori che vedete, molto interessante questo approccio, perché nei fori che vedete, i fori che vedete sono stati proprio fatti dagli ingegneri che hanno sviluppato lo scaffold per permettere il passaggio dei fasci neuronali. Quindi i fasci neuronali del nostro midollo spinale potrebbero andarsi a rigenerare all'interno di quei fori che si vedono. E questo è un grande risultato, quindi è una ricerca molto importante perché innanzitutto apre le porte verso un settore che è appunto quello neurologico, in cui è molto difficile trattare questo tipo di approccio, ma è importante proprio per l'intero settore bioprinting. Invece adesso vi mostro due brevi applicazioni di quello che noi stiamo cercando di sviluppare all'interno del nostro ospedale, parlando appunto di stampa 3D in biopolimeri e materiale biologico. Vi mostro questo progetto che riguarda l'utilizzo della bioprinter, quindi di una stampante 3D biologica, per la stampa di supporti tracheali in polica prolattone e idrossiapatite. Andiamo a vedere cosa sono i supporti tracheali, anche se già da questa slide un po' si capisce. Diciamo che c'è un bronco, in particolare questo è il bronco sinistro di un paziente generico, e poi c'è questo supporto tipo un cilindro appositamente modellato in 3D, quindi appositamente progettato, che tende ad aprire questo bronco quando il paziente ha una cosiddetta malacia, cioè un restringimento sostanziale del diametro della via aerea. Ecco, qui si vede un po' meglio il caso clinico, quindi siamo partiti da un caso clinico generico. Vedete in quella parte di bronco c'è una malacia, quindi un restringimento sostanziale del diametro del bronco. Ovviamente il paziente pediatrico con questo tipo di patologia ha dei problemi respiratori molto importanti. E bisogna anche dire che nei primi due o tre anni di vita il trattamento per questi pazienti è assai complicato. Allora la soluzione potrebbe arrivare da questo piccolo cilindro stampato in 3D con una bioprinter in polica prolattone. Questo piccolo cilindro ha la funzione di supporto a questo bronco ormai quasi chiuso e come vedete adesso in questa piccola animazione lo scopo di questo piccolo cilindro è quello di andare ad allargare il bronco. Attraverso dei punti di sutura il bronco viene suturato ad una serie di buchini che sono presenti sul cilindro e il bronco rimane allargato per il tempo necessario al paziente per sviluppare un'anatomia di sostegno del bronco stesso. E questo processo biologico che ci porta dal restringimento fino al bronco aperto può avvenire grazie appunto a questo splint. Lo splint è proprio questo qui, quindi vedete ci sono dei buchi, all'interno di quei buchi possono passare dei punti di sutura e a destra invece vedete un piccolo frame del processo di modellazione 3D che ho eseguito per creare lo splint. Ma non è tanto importante quello quanto anche la geometria dello splint stesso. Ha questa forma un po' scalettata per aumentare la resistenza a flessione dello splint anche se le sollecitazioni dinamiche che sono all'interno della gabbia toracica non sono importantissime, cioè ci sono ma non sono molto rilevanti a tal punto da rendere pericoloso comunque una struttura di questo genere. Ecco queste sono alcune prove meccaniche che abbiamo fatto sullo splint virtualmente, quindi cosa abbiamo detto? Ok facciamo questo splint, lo possiamo impiantare, lo dobbiamo innanzitutto prima stampare in 3D, però prima di impiantarlo verifichiamo che si deformi in maniera adeguata a quelle che sono le esigenze del paziente. Abbiamo sottoposto virtualmente lo splint, non lo chiamiamo splint, sarebbe il supporto, a delle forze e delle sollecitazioni meccaniche, adesso sono un po' scomparse, però a delle sollecitazioni meccaniche che ci davano la sicurezza che le deformazioni fossero compatibili. Infine abbiamo stampato questo modello in 3D in policaprolattone e idrossiapatite. Sono due biopolimeri, in particolare il policaprolattone è un poliestere, l'idrossiapatite è un sale di calcio presente nelle nostre ossa, insieme questi due biopolimeri aumentano molto la resistenza meccanica del policaprolattone da solo e quindi abbiamo messo insieme questi due biopolimeri e abbiamo stampato in 3D lo splint. Adesso stiamo procedendo con altre sessioni di stampa 3D, sempre dello stesso supporto, con altre granulometrie di policaprolattone. Quella è la stampante con cui abbiamo stampato lo splint, non è propriamente una bioprinter ma rientra nel concetto bioprinting in quanto il materiale ha proprietà biologiche. Questa invece è la tecnologia di stampa in cui si vedeva un austrato di polvere, un rullo che passa sulla polvere per creare un piano e il laser che va a polimerizzare piano piano tutto il supporto biologico. Ma perché questo policaprolattone? Ci sono migliaia di materiali perché proprio il policaprolattone? Allora innanzitutto perché è un materiale che ha una serie di caratteristiche molto favorevoli ad essere impiantato molto brutalmente, quindi il policaprolattone può essere facilmente impiantato, è completamente atossico, quindi totalmente biocompatibile, ha una temperatura di fusione di circa 60 gradi, quindi non richiede particolari attenzioni in questo senso, ha un'altissima resistenza meccanica rispetto alla sua forma originale può allungarsi circa del 300%, quindi del tutto compatibile con le sollecitazioni che abbiamo nel nostro organismo, ha un tempo di biodegradabilità di 24 mesi e questo per noi è fondamentale. Questi 24 mesi in cui il supporto si biodegrada ci dà il tempo al paziente di sviluppare autonomia e sostegno, autosostegno bronchiale. Quindi perché abbiamo usato il policaprolattone? Essenzialmente perché il tempo di biodegradabilità è molto comodo per i nostri scopi. Altri biopolimeri hanno le stesse proprietà biologiche del policaprolattone ma hanno una biodegradabilità molto più veloce e una biodegradabilità veloce non ci è utile perché non darebbe il tempo al paziente di sviluppare, di crescere e maturare a livello delle vie aeree superiori. E poi ultimissima caratteristica, una temperatura di transizione vetrosa molto bassa, transizione vetrosa è una temperatura nella quale i materiali diventano molto fragili, questo policaprolattone diventa molto fragile a meno 60 gradi quindi possiamo anche accettarlo in quanto temperatura molto lontana rispetto ai nostri scopi. Infine vi mostro molto brevemente quest'altro progetto, è un progetto che si discosta molto dal precedente, stiamo lavorando insieme al dottor Andrea Del Fattore in un progetto di rigenerazione ossea usando appunto scaffold in policaprolattone, siamo a dei risultati ancora forse troppo preliminari però ci tenevo a mostrarvi quale può essere anche l'evoluzione della ricerca in questo senso, vedete scaffold piccolissime banali scaffold in policaprolattone sono state coltivate su queste scaffold delle cellule staminali mesentimali e abbiamo visto che le cellule stanno molto bene su questi scaffold, quindi proliferano molto bene e aderiscono perfettamente allo scaffold e adesso stiamo procedendo a funzionalizzare queste cellule con dei composti biologici specifici per indurre la rigenerazione ossea, quindi l'ostiosintesi, quindi la proliferazione delle cellule osse. Vi invito per chi è interessato a questi temi, noi organizziamo nel nostro ospedale un convegno ad ottobre che ha il titolo di Shaping the Future of Pediatrics, molto interessante perché tratta tutti i temi dell'innovazione tecnologica in medicina. Grazie a tutti.